Musica Al centro-destra il nuovo consiglio della città metropolitana di Genova. I 11 consiglieri formeranno la maggioranza, 7 consiglieri la minoranza, affluenza al 76,68%. Nuovo consiglio metropolitano, 5 consiglieri espressione di amministrazioni del Tigulio. Il sindaco di Rapallo, Carlo Bagnasco, il più votato in assoluto. Il Papa all'Angelus, Dio ci chiede di essere luogo di speranza per tutti. La fede, ha detto, è prima di tutto una proposta di amore che Dio, attraverso Gesù, ha fatto e continua a fare all'umanità. La comunità di Santa Giulia e di Sorlana hanno accolto il nuovo parroco Don Andrea Borinato. Il rinnovamento riguarda anche l'assetto parrocchiale in un clima di crescente comunione. La Liguria ad Assisi, reportage di Telepace sul pellegrinaggio delle diocesi Liguri in Umbria. Spazio all'atalità di Francesco e all'accensione della lampada votiva in onda questa sera alle 21.10. La Virtus Entella-Chiavari batte 3-0 il Brescia e vola in classifica. Clima di festa e entusiasmo al comunale per il quinto risultato utile consecutivo. Buonasera, buonasera a tutti, gentili telespettatori, benvenuti nei nostri studi. La politica amministrativa è in apertura di giornale. Nella giornata di ieri si è votato per il rinnovo del Consiglio metropolitano della città di Genova. L'affluenza al voto è stata del 76 e 68 per cento da parte dei consiglieri e anche dei sindaci dei 67 comuni dell'ex provincia. Dei 18 posti da consigliere che formeranno l'assemblea, 11 sono andati alla lista del centrodestra, 5 a quella del centrosinistra e 1 ciascuno per le altre due liste in lizza. 5 consiglieri espressione del nostro tigullio che sederanno tra i banchi della maggioranza e anche della minoranza. Tra questi il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco, risultato il candidato più votato in assoluto. Facciamo il punto nel servizio che segue. Anche il Consiglio della città metropolitana passa al centrodestra. Dopo la Regione e il Comune di Genova, anche l'assemblea consultiva nata per sostituire quella della vecchia provincia cambia colore dopo molteplici legislature. Un risultato tutto sommato scontato, visto il cambio di colore del Comune Capoluogo, i cui consiglieri votanti avevano un maggior peso nel voto ponderato, sistema che è stato utilizzato per andare a definire la composizione del nuovo Consiglio metropolitano. Giusto per capire, la preferenza espressa da un membro dell'Aula di Palazzo Tursi valeva 1097 voti ponderati, mentre quello di un piccolo comune, come il caso di Propata, valeva 28. Dunque, dalla somma di questi voti, espressi dagli 815 elettori dei 66 comuni dell'ex provincia, il 67esimo comune, Lavagna, non ha votato perché commissariato, è scaturito il risultato che premia il centrodestra. Dei 18 posti disponibili, a cui si aggiunge quello già occupato dal sindaco metropolitano Marco Bucci, 11 sono andati ai candidati della lista di centrodestra per la città metropolitana, 3 quelli espressione del Tiguglio, il sindaco di Rapallo, Carlo Bagnasco, che con i suoi 5.417 voti ponderati è risultato in assoluto il consigliere più votato di questa tornata, seguito per la sua lista da Guido Guelfo, sindaco di Lumarzo, che ha raccolto 4.987 voti ponderati. A chiudere il terzetto della maggioranza per il Tiguglio, Roberto Cella, consigliere comunale di Rezzoaglio, che ha raccolto 3.144 voti ponderati. Gli altri otto consiglieri del centrodestra sono, in ordine di voti, Stefano Anzalone, consigliere comunale di Genova, Adolfo Olcese, sindaco di Pieve Ligure, Salvatore Muscatello, consigliere comunale di Arenzano, Enrico Piccardo, sindaco di Masone, Simone Ferrero, consigliere comunale di Genova, Claudio Garbarino, consigliere comunale di Torriglia, Franco Senarega, consigliere comunale di Recco e Agostino Bozzo, consigliere comunale di Camogli. Dei cinque consiglieri che vanno alla lista di centrosinistra patto metropolitano, il più votato in questo caso con 5.244 voti ponderati è stato il sindaco di Coreglia Ligure, Elio Cuneo. Gli altri quattro sono Claudio Villa, Enrico Pignone, entrambi consiglieri comunali di Genova, Maria Grazia Grondona, sindaco di Mignanego e Stefano Damonte, consigliere comunale di Cogoleto. Elio Cuneo è uno dei due consiglieri espressione del Tiguglio in minoranza. L'altro è Antonio Segalerba, attuale presidente del Consiglio comunale di Chiavari, eletto con 3.442 voti ponderati per la lista Avanti Tiguglio, composta esclusivamente di consiglieri comunali di Chiavari. A chiudere la composizione dell'Assemblea metropolitana, il consigliere della lista Coalizione Civica per la Città metropolitana, presentata da Formazione Politica di Sinistra, ovvero Daniela Tedeschi, consigliere comunale di Arenzano. Grande soddisfazione per un risultato che va oltre l'appartenenza al centro-destra. Ancora una volta l'unità, in piena sintonia con la linea del presidente Giovanni Toti, ha dato dimostrazione di portare ad importanti risultati. Questo è il commento del risultato relativo alle elezioni del Consiglio metropolitano da parte del sindaco di Rapallo, Carlo Bagnasco. Anche sul piano personale la soddisfazione è tanta, ringrazio della fiducia accordata tanti sindaci e consiglieri che mi hanno sostenuto e che dal comune più piccolo al più grande hanno la stessa dignità istituzionale, continua il primo cittadino di Rapallo. La vittoria al primo posto nel Consiglio metropolitano di Genova è solo il punto di partenza. Le necessità del territorio sono tante e l'impegno per risolvere rimane totale. Alberto Corticelli, capogruppo di Avanti Chiaveri, ha espresso soddisfazione per l'elezione di Antonio Segalerba, consigliere della città metropolitana. Elezione che si legge in una nota ha saputo coinvolgere orientamenti civici ed indipendenti. Segalerba prosegue il comunicato, porterà nella città metropolitana istanze quali l'impianto di depurazione compensoriale, la viabilità, l'ambiente, ato idrica, ato rifiuti e lavori pubblici. La lista Avanti Tigulio, prosegue a Corticelli, si propone di essere maggiormente incisiva rispetto alle decisioni prese e non prese nel passato recente, mantenendo e implementando un dialogo aperto con tutte le istituzioni del territorio. Sulla A12, la Genova-Rusignano-Maritem è stato riaperto pochi istanti dopo le 15.30 il tratto tra Recco e Genova-Nervi, che è rimasto chiuso per più di un'ora a causa di un incidente che ha coinvolto tre mezzi pesanti. Vedete le immagini. Lo scontro è venuto all'altezza del chilometro 15 all'interno della Galleria Montegiuco, lungo la careggiata verso Genova. Per diverso tempo le auto sono state fatte uscire a Recco e rientrare a Nervi, con transito obbligatorio lungo la via Aurelia. Si sono comunque formate delle lunghe code, fino a pensate a 6 chilometri di veicoli incolonati lungo la carreggiata a Monte. Sul posto sono intervenuti tutti i mezzi di soccorso, oltre al personale di Autosade per l'Italia e alla Polizia Stradale. Pagina ecclesiale del giornale. All'Angelus di fronte a circa 30.000 fedeli e pellegrini, il pontefice ha commentato la pagina del Vangelo Domenicale che proponeva la parabola dei vignaioli ai quali il padrone affida la vigna per poi andarsene, mettendo a prova la loro fedeltà. Ma giunto il tempo della vendemmia, quei vignaioli rifiutano di consegnargli il raccolto, uccidono tutti i servi mandati dal padrone e arrivano persino a uccidere il suo figlio. È una storia che ci appartiene, così ha detto Francesco. Parla dell'alleanza che Dio ha voluto stabilire con l'umanità e alla quale ci chiama a partecipare. Il servizio curato dal Centro Televisivo Vaticano. Può partire. Siamo chiamati ad uscire e a portare frutti di bene e di speranza, ad essere vigna del Signore, non chiusa ma vivace e aperta in ogni ambiente, specialmente nelle periferie della società, mettendoci al servizio dei fratelli. È stato il richiamo del Papa all'Angelus in una gremitissima piazza San Pietro. Il pontefice ha ripreso la parabola evangelica dei vignaioli a cui il padrone consegna una vigna con il compito di custodirla e farla fruttificare. Ma al tempo della vendemmia questi uomini assumono un atteggiamento possessivo e si rifiutano di consegnare il raccolto. Maltrattano i servi fino ad uccidere persino il figlio del padrone. Una storia che ci appartiene, ha affermato Francesco, fatta di alleanza con Dio ma anche di momenti di rifiuto e tradimento da parte dell'uomo. E qui la grande novità del cristianessimo, un Dio che pur deluso dai nostri sbagli e dai nostri peccati non viene meno alla sua parola, non si ferma e soprattutto non si vendica. Ma fratelli e sorelle, Dio non si vendica, Dio ama, non si vendica, ci aspetta per perdonarci, per abbracciarsi. Attraverso le pietre di scarto e Cristo è la prima pietra che i costruttori hanno scartato, attraverso situazioni di debolezza e di peccato, Dio continua a mettere in circolazione il vino nuovo della sua vigna, cioè la misericordia. C'è un solo impedimento di fronte alla volontà tenace e tenera di Dio, la nostra arroganza e la nostra presunzione, che diventa talvolta anche violenza. Di fronte a questi atteggiamenti e dove non si producono frutti, la parola di Dio conserva tutta la sua forza di rimprovero e di ammonimento. Don Andrea Borinato ha iniziato ieri il suo nuovo cammino come parroco di Santa Giulia e Santa Maria Assunta a Sorlana, ad accoglierlo sul piazzale della Chiesa i fedeli delle due comunità. Tra questi il vescovo emerito di Brescia, Monsignor Giulio Sanguinetti, tra le due parrocchie si avvia un rinnovamento dell'assetto pastorale con uno sguardo sempre più di comunione e di condivisione. Noi eravamo presenti. Per le comunità di Santa Giulia e Sorlana a Lavagna, con l'ingresso del nuovo parroco, inizia un cammino di rinnovamento e di grande comunione. Don Andrea Borinato sarà pastore delle due parrocchie e proseguirà la collaborazione come aiuto nella Chiesa di Santo Stefano. A spiegare il nuovo assetto pastorale è stato il vescovo Alberto Tanasini, che ha invitato i fedeli delle comunità a vivere il loro percorso, condividendo il lavoro cittadino che si sta attuando a Lavagna. Chiedo ai parrocchiani di Santa Giulia e Sorlana non solo di accettare di buon grado questa impostazione, ma di viverlo in modo attivo, partecipi, dando il loro apporto. E Don Andrea sarà colui che vi aiuterà a comprendere il valore di questa impostazione. Prendendo spunto dal Vangelo Domenicale, il vescovo ha quindi sottolineato l'importanza di far portare frutto alla vigna del Signore, un impegno che richiede di essere fedeli. Se i vignaioli devono essere fedeli, così deve essere fedele alla vigna nel portare frutto. Il frutto che è quello della vita cristiana che guarda la vita eterna. Don Andrea Borinato assume la guida delle due parrocchie lavagnesi lasciando gli incarichi di cappellano delle suore di Santa Marta, del Serra Club, l'insegnamento scolastico e anche di delegato vescovile delle confraternite, esperienze che custodirà nel cuore nell'intraprendere il nuovo cammino. Io mi aspetto di essere per loro un segno di Gesù, buon pastore, nella piccolezza, nella povertà della mia umanità, con i miei limiti, con le mie capacità e spero che qui ci sia, come dicevo Pocanzi, una comunità che sia luce e una comunità che sia in cammino. Tra i tanti che hanno voluto salutare il nuovo parroco, anche i volontari della Croce Rossa di Cogorno, dove Don Andrea svolge servizio da diversi anni. È una passione che coltivo nel cuore e davvero con loro c'è una grande amicizia, un grande affetto e mi ha fatto veramente piacere averli qui con me in questo momento importante. Telepace ha seguito il pellegrinaggio delle diocesi Liguri ad Assisi in occasione dell'accensione della lampada che arde sulla tomba di San Francesco d'Assisi. In particolare l'emittente ha ripreso gli appuntamenti principali della giornata del 4 di ottobre, festa proprio del Patrono d'Italia. Questa sera vi proporremo un ampio reportage con immagini e interviste dal titolo La Liguria ad Assisi. L'inizio di questo reportage è fissato per le 21.10 su Telepace 1 al canale 15 del vostro telecomando. Ora torniamo sull'attualità di Francesco nelle interviste ai Vescovi. Vediamoli. Quale può essere l'attualità del messaggio di Francesco? San Francesco è l'uomo che ha incontrato il Signore, si è lasciato sconvolgere, ha cambiato radicalmente il cuore e la sua vita. Da qui è nata quella fraternità che tutti riconoscono in San Francesco, quell'amore alla creazione e tutto quello che lui ha fatto per gli altri. Ma la radice, la sorgente è questa. Sarebbe inutile rincorrere le opere, diciamo, di San Francesco senza cercarne la sorgente, ritornare alla sorgente che è l'incontro con Dio. Penso che Francesco comunque per i giovani e anche per tutti noi rappresenti così un qualche cosa di, per certi aspetti, di inarrivabile, però un desiderio che tutti portiamo nel cuore di profondità, di unione a Cristo, di semplicità, di donazione, di generosità, di amore che comunque ci travolge. Il mondo cerca di soffocare questa bellezza, cerca di soffocare l'amore. In questo Francesco è un grande esempio, è una grande scuola anche. Il perdono che ha ricevuto da Dio diventa riconciliazione tra i fratelli, anche con le cose, con il creato. Questa parola di riconciliazione è una parola che per il mondo è fondamentale. Ci accorgiamo quanto invece prevalga la divisione, prevalga la violenza, l'incapacità di ascoltarci. Francesco è un uomo riconciliato perché perdonato da Dio, che quindi vuole vivere questa riconciliazione con i fratelli e con il creato. In questo, ad esempio, troviamo parole molto profonde e assolutamente attuali. Abbiamo bisogno di vivere questa pace, questa concordia, questa riconciliazione, di saperci perdonare, di saperci ascoltare. Abbiamo bisogno anche di far pace con il mondo, con il creato. È stata inaugurata questa mattina la nuova sede della stazione Carabinieri di Torriglia. La presenza del Ministro della Difesa, Roberta Pinotti, che ha tagliato il nastro, è il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri Tullio del 7, accompagnato dal Comandante Interregionale di Milano, Riccardo Amato, e dal Comandante della Legione Liguria, Paolo Carra. Nei brevi interventi, sia il Ministro della Difesa che il Comandante Generale, hanno rimarcato l'importanza della presenza capillare dell'arma sul territorio, in particolar modo dei piccoli centri, in cui le stazioni dei Carabinieri devono rappresentare soprattutto punti di riferimento di conforto per la popolazione e garanzia di sicurezza necessaria per una convivenza serena. L'immobile di proprietà private è stato acquistato dall'Amministrazione Comunale di Torriglia, che lo ha ristrutturato in base alle esigenze dell'arma e concesso e incomodato d'uso. Il territorio su cui insiste il presidio di Torriglia si estende su una superficie di 107 km2 per un totale di 2729 abitanti, suddivisi tra i comuni di Torriglia, Montebrune e Propata. Nel 2011 si è aggiunto anche il comune di Rondanina, precedentemente di competenza della stazione di Rovenio, anch'essa dipendente dalla Compagnia Carabinieri di Chiavari. Anche quest'anno il comune di Sessilevante sarà presente al TTG Rimini, una delle più importanti manifestazioni italiane di promozione turistica, che aprirà ai battenti il prossimo giovedì 12 ottobre. Sestri, insieme ai comuni di Framura e Chiavari, sarà presente in fiera per sviluppare l'importante lavoro di contatte pubbliche e relazioni collegate alla realizzazione della prossima edizione di Discover Italy Meeting Swiss and Europe, la fiera del turismo, che per il secondo anno si svolgerà a Sessilevante e che verrà presentata agli operatori internazionali e agli espositori durante alcuni momenti di incontro proprio nella città di Rimini. Lezione a cielo aperto per i ragazzi della classe terza, delle medie e dei comprensivi di Chiavari. Sotto l'ombra degli alberi del Parco Talassano, una trentina di studenti hanno ascoltato le parole alla lezione dell'intagliatore Franco Casoni, che ha raccontato la sua esperienza professionale, chiedendo loro anche consigli su come scolpire due tronchi di alberi che per forza di cose sono stati tagliati. Vediamo. La corteccia annerita porta ancora ai segni dell'incendio che l'estate del 2014 interessò il vicino chiosco, distruggendolo completamente. Da quel 18 agosto, due delle piante centenarie che ancora svettano nel Parco Talassano a Chiavari, un cipresso e un leccio, non si erano più riprese, ragion per cui inevitabile e a malincuore è arrivato nei mesi scorsi il taglio. Adesso però quei tronchi tristi e solitari si trasformeranno presto in qualcosa di unico e di bello, in grado di rendere più suggestiva e gioiosa l'atmosfera che si respira ogni giorno nell'area verde che sorge nel quartiere di Rupinaro. Quali figure verranno incise su quei tronchi ancora non si sa. Lo deciderà l'intagliatore Franco Casoni, una volta raccolti i suggerimenti e le proposte che faranno i ragazzi delle terze medie di Chiavari, che lo hanno incontrato per una lezione a cielo aperto, seguita con interesse e coinvolgimento. Penso che poi verrete in seguito e vedrete l'evoluzione. L'albero qui di fianco ha una struttura che mi permetterà di fare, poteva essere un Pinocchio, ma poi pensavo di fare il genio del parco, perché questo è un vecchio parco dove c'era un campo da terri, se mi ricordo, bambino. Era una cosa molto bella. Si accettano suggerimenti comunque? Sì, infatti i ragazzi mi dovrebbero dire cosa ci vedono in quest'albero, anzi ben vengono i suggerimenti e basta che non mi dicano che ci vedono Mazinga. L'idea di coinvolgere i ragazzi dei due comprensivi chiavaresi è stata raccolta dall'amministrazione cittadina, che ha in programma altri incontri simili con altrettante realtà artigianali e professionali del territorio. Casoni, che è un nostro artista bravissimo e che sicuramente non manca di passione in quello che fa, spero possa trasmettere a questi ragazzi la sua passione, in modo che i ragazzi capiscano che anche questo è un lavoro che nella vita si può fare. Gli spiegherà come è fatto il legno, come è composto, che cosa si può utilizzare, perché lui ha scelto di fare questo lavoro nella vita e spero che questo sia un aiuto anche al suo orientamento. È un primo incontro al quale seguiranno altri due incontri con Casoni e altri incontri che prenderanno come punto di riferimento commercio e olivicultura, sempre con lo stesso obiettivo. Anche quest'anno il gruppo fotografico TIFF, Tigulio Fotoforum, promuone la decima edizione del corso di fotografia che si svolgerà dal 18 ottobre 2017 al 24 gennaio 2018. Iniziativa che è rivolta sia a coloro che vogliono apprendere le basi della fotografia digitale, sia a coloro che, già possedendo una certa esperienza, hanno però il desiderio di migliorare i propri risultati. Il taglio è prevalentemente pratico, sono previsti 14 incontri con alternanza di uscite fotografiche in esterno, workshop, lezioni in aula, una sessione di ritratto con modella. Sono in programma anche otto serate di workshop. Il corso si trarà tutti i mercoledì con orario dalle 21 alle 23 a Chiavari, in via Descalzi al Civico 11. La quota di partecipazioni comprende inoltre per ogni partecipante l'iscrizione al TIF come socio ordinario per l'anno 2017-2018, con la possibilità quindi di partecipare a tutte le numerose attività di questa associazione. Maggiore informazione, il calendario e il modulo di iscrizione sono reperibili sul sito del TIF www.tiguliofotoforum.it. Tutto attaccato. Oltre 100 golfisti provenienti da Genova e dal Tigulio hanno partecipato alla prima edizione del torneo di Golf Amici per Teleradio Pace, disputatosi ieri sul Green di Rapallo. 28 le squadre da 4 giocatori che in una bella giornata di solo si sono sfidati per l'iniziativa a sostegno dell'associazione di volontariato che appoggia la nostra emittente, promossa dal circolo Golf Tennis Rapallo. L'appuntamento con la solidarietà a sostegno di Telepace però raddoppia. Il fine settimana del 21 e 22 ottobre, questa volta sui campi in terra battuta del Tennis di Rapallo, si disputerà il torneo di doppio misto a estrazione. C'è tempo per le iscrizioni sino al 19 di ottobre. Tutti possono partecipare, grandi e piccini, tesserati e non. Le squadre saranno formate tramite il sorteggio degli iscritti. E ora, come di consueto, la scheda degli appuntamenti per la giornata di domani, 10 ottobre. Può partire la sigla. Martedì 10 ottobre il progetto Sara Safe Factor farà tappa alle 8.45 all'Istituto Scolastico Natta di Sestri Levante, coinvolgendo le classi quarte e quinte, ovvero quelle che ospitano ragazzi che a breve prenderanno la patente o l'hanno appena presa. Si parlerà di guida sicura e rispetto delle regole del codice della strada. Ricordiamo che, come ogni martedì, è aperto alle visite il Museo Scientifico Leonardini Sanguinetti, che espone attrezzature d'epoca nei locali del Seminario Vescovile a Chiavari, l'orario dalle 9 alle 12. Il 10 ottobre è la giornata mondiale della salute mentale al femminile. A partire dalle 14 al Teatro Caritas di Via Marana avrà inizio il convegno organizzato dall'ASL 4 Chiavarese, che presenterà l'attività del servizio di salute mentale dell'azienda sanitaria, in particolare il progetto Donna, curato in collaborazione con il reparto di ginecologia. Secondo appuntamento per il corso di formazione organizzato dall'Associazione Volontari e Assistenza Domiciliare a Rapallo. Dalle 15 alle 17 la geriatra Babette Dink affronterà il tema le patologie dell'anziano. L'incontro si terrà a Villa Queirolo. Inizia il tredicesimo anno del corso di cultura genovese organizzato dall'Associazione Culturale Ucastello de Ciavai. Per il primo appuntamento, che avrà inizio alle 16.30 nella sala livellara di Via Del Pino, Barbara Bernabò affronterà il tema La carità disposta alla grazia, la croce rossa chiavarese. Padre Andrea Brustolon, oblato di Maria Vergine, sarà a Chiavari alle 20.30 nella chiesetta dei padri oblati in Via Santa Chiara per presentare il suo libro dedicato a Dunod de Saint-Maclou, fondatore dell'ufficio Constatazioni Mediche di Lourdes. Laboratorio di Meteorologia e Temporali ad Ovada. È una serata organizzata dal Centro Meteo Ligure Limet in collaborazione con l'Associazione Culturale Banca del Tempo. L'incontro avrà inizio alle 20.45 nella sede della Società Operaria di Mutuo Soccorso. Sarà fatto particolare riferimento alle dinamiche autunnali e agli eventi alluvionali. Ultima parte del giornale, come sempre dedicata allo sport. Partiamo dal calcio. Nell'ottava giornata del campionato di Serie B, la Virtus Entella Chiavari conquista tre punti con un rotondo 3-0 ai danni del Brescia, ospitata al Comunale di Chiavari. La squadra di Castorina continua nella sua evoluzione positiva che allunga a 5 la striscia di partite utili e soprattutto prolunga ulteriormente la tenuta della sua difesa che anche ieri non ha incassato gol. La cronaca curata da Nicolò Pagliettini. Fa festa l'Entella che batte 3-0 il Brescia e trova la seconda vittoria consecutiva al Comunale di Chiavari. Sbloccare il risultato nel primo tempo ci ha pensato la Zanzara. Beppe De Luca ha il suo secondo gol in maglia bianco celeste, primo gol al Comunale. Brescia è rimasto in partita fino al sessantesimo, più o meno, del secondo tempo, quando Davide Brivio, direttamente da calcio di punizione, siglava il gol del 2-0. Nel finale l'Entella sul Velluto trova il gol del 3-0 con Andrea Lamantia per il bomber, arrivato dalla Provercelli, il primo gol con la maglia bianco celeste. Aspettavo tanto perché è stato un periodo difficile tra l'ambientamento, il cambio della squadra, di modulo, di tutto, però piano piano con il lavoro sono riuscito a entrare in gruppo e piano piano è arrivato questo gol che aspettavo da tanto e sono veramente contento. È sembrata veramente una squadra matura che trova la seconda vittoria consecutiva ma che stia raggiungendo una grande autostima, una grande consapevolezza dei propri mezzi. Sì, sì, no. Si vede a vista d'occhio che settimana dopo settimana cresciamo sempre più, ma questo lo facciamo in merito comunque del lavoro che facciamo in settimana, degli allenamenti che svolgiamo. Lunedì abbiamo un test che comunque ci fa capire che tipo di squadra siamo, che identità abbiamo. Per ora va tutto bene, ma non dobbiamo sicuramente sederci per due vittorie che abbiamo fatto. Il fatto che ragazzi anche dopo un inizio un pochettino così, dove loro ci venivano a prendere molto alti, abbiano continuato a cercare la manovra, mi ha reso veramente felice. E di fatti in una manovra dove siamo riusciti a eludere il pressing del Brescia ci siamo alzati e da lì abbiamo fatto credo un 30 minuti, 25 minuti del primo tempo veramente importanti che ci ha dato motivazioni, che ci ha dato coraggio, che ci ha fatto fare il gol. Quindi credo che la partita dell'Entella sia stata una buona partita dove riusciamo a marcare tante cose positive ma ancora qualcosa che non va e lavoreremo su quello che non va, chiaramente. Entella vola nelle zone alte della classifica, giocherà nuovamente in casa nel prossimo turno. Il comunale, tra i tanti strani e belli incroci del campionato di Serie B, tornerà all'Empoli guidato da quel bomber, quel Francesco Ciccio Caputo che qui a Chiavari nessuno ha mai dimenticato. Entella per oggi fa festa, batte 3 a 0 Brescia e vola in classifica. Andiamo nei dilettanti Serie D nella sesta giornata del campionato e vittoria della Lavagnese e pareggio casalingo del sesti rilevante. I bianconeri impegnati nella trasferta a Savona sono riusciti a fare punteggio pieno vincendo per 1 a 0 grazie a una rete messa a segna da Fondioc al 35esimo del primo tempo. Tre punti che fanno balzare la Lavagnese in testa alla classifica a quota 14 insieme a Ponsacco e Serravezza Pozzi. Pareggio casalingo per il sesti rilevante che ospitava al Sivori il Viareggio. Partita che si è chiusa sul risultato di 2 a 2. Gli avversari passavano in vantaggio dopo 10 minuti di gioco per un'autorete di Benga Samba venivano raggiunti dai padroni di casa al 42esimo del primo tempo con rete di Iagnello. Nella ripresa ancora un'autorete questa volta di Giordani al 23esimo portava in vantaggio temporaneo di nuovo il Viareggio. Il definitivo 2 a 2 siglato al 30esimo del secondo tempo da Angelotti. Per il sesti rilevante un punto prezioso che fa salire la classifica a quota 6. Passiamo alla palla canestro. La pala canestro scende in campo domani sera contro la violenza sulle donne al Palazzetto dello Sport di Santa Margherita Ligure alle 19.30 scenderà infatti in campo la squadra di basket artisti contro una rappresentativa di magistrati, avvocati e forze dell'ordine. La partita è organizzata dalla società Tigulio Sport Team ingresso libero con offerte che verranno raccolte e saranno destinate alle vittime dell'alluvione di Livorno. Si giocherà a basket davvero però perché in entrambe le rappresentative sono previsti ex giocatori di un certo livello come Antonello Riva Riccardo Gismondi fra gli artisti e i magistrati Mauro Amisano e Walter Cotugno in forza alla procura di Genova. Una riflessione sull'importanza di contrastare il fenomeno della violenza contro le donne sarà condotta dalle autorità presenti nell'intervallo della partita. Dal porticiolo di Camogli sino all'insenatura di Niasca in kayak per raccogliere plastica e rifiuti abbandonati in mare. Lo hanno fatto nella giornata di ieri sei volontari dell'associazione Outdoor a Portofino che partiti dal borgo Marinmaro hanno rasentato le scogliere del Golfo Paradiso e si sono addentrati in diverse cali del promontorio di Portofino tra cui Cala dell'Oro e Cala degli Inglesi scrutando con attenzione l'ambiente circostante alla ricerca di materiale disperso con l'appoggio di un gommone del personale dell'area marina portetta di Portofino sono stati raccolti e trasportati a terra oggetti di ogni tipo le materie plastiche sono state le più frequenti con 250 pezzi di polistirolo 33 bottiglie di plastica 20 paloncini oltre ad alcuni pezzi sparsi non identificabili tra i fiuti ingombranti è stata recuperata una cisterna in metallo di quasi un metro di diametro lo scheletro di una boa con un peso in piombo di circa 50 kg una grata di quasi due metri di larghezza una mezza dozzina di palloni da calcio e bici volley sono stati poi rinvenuti in vari anfratti lungo il tragitto insieme ad alcune boe di tutto il materiale raccolto soltanto una parte finirà in discarica se la plastica e il vetro sono già pronti per essere riciclati per alcuni oggetti sono già stati pensati dei riusi alternativi alcune boe verranno usate come decorazione natalizia la grata di metallo diventerà un raccoglitore per pinne da windsurf si è conclusa la 49esima edizione della Coppa Dall'Orso che ha visto più di 56 imbarcazioni cimentarsi sul percorso da Chiaveri a Porto Venere e Ritorno la manifestazione è una classica del settore è stata organizzata come sempre dallo yacht club Chiaveri in classe ORC si è giudicata la vittoria e la Coppa Challenge Dall'Orso l'imbarcazione aria di Burrasca di Franco Salmograghi della Lega Navale Italiana di Sestri Levante il prossimo appuntamento è per la terza tappa del campionato vela d'autunno del Jeannot Cup 2017 regata sociale Open BPM Banco Chiaveri della Rivera Ligure Memorial Romano Caselli si terrà tutto questo il 21 di ottobre questa era l'ultima notizia del giornale prossimo appuntamento con l'informazione domani 12 e 45 TG13 vi ringrazio per essere stati con noi vi lascio ai programmi serali sul nostro emittente una buona serata a tutti arrivederci